Se hai una pessima circolazione, sanguigna, sicuramente sarai una buona persona Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, non so se notate ma sono diventato proprio uno di quelli youtuber professional perché c'ho la lampada dell'IKEA, le luci di Natale che ho attaccato poc'anzi con lo scotch e pure la ring light, ragazzi, io non lo so E comunque, oggi volevo fare un nuovo video di cultura giapponese in cui parleremo delle superstizioni che c'hanno i giapponesi perché sono non poco strane Devo dire che io pensavo che le superstizioni in Italia fossero strane ma devo dire che quelle in giapponese, secondo me, le battono tutti C'è da dire che però c'è anche un discorso culturale nel senso che se tu fin da piccolo sei abituato a sentire una certa cosa poi nella tua testa diventa una specie di finta verità quindi non ti sembra più strana Comunque, non perdiamoci in chiacchiere saranno 10 cose, 10 superstizioni che hanno i giapponesi Anche questo è un video che hanno fatto i miei amici UgaPai se volete andare a vedere il loro video in inglese ve lo lascio in descrizione Vabbè ragazzi, comunque in questo video vi darò la mia opinione su queste 10 superstizioni e vediamo insieme quali sono Allora, iniziamo dalla numero 10 Allora, la 10 è abbastanza divertente E a me capita spesso di singhiozzare Ogni volta che mangio gli onigiri, che sono quei triangolini di riso Spesso se lo mangi magari mentre cammini, cosa che non bisogna fare Però sai, se sei un po' di fretta magari E non sei proprio in centro Tokyo Lo puoi anche fare E comunque, se ti capita di singhiozzare I giapponesi credono che se fai 100 singhiozzi Uno dietro l'altro Morirai E muori Muori E è una cosa veramente straba Perché io penso di averne già fatti più di 100 di fila A dirvi la verità Quindi per fortuna sono ancora qui con voi A fare i video con dietro le costellazioni E niente E mi ha detto anche questo mio amico Che praticamente a scuola Se magari capitava che uno degli studenti S'inghiozzasse per tot minuti Poi tutti gli studenti si radunavano intorno a lui E iniziavano a contare 25, 26, 27 Per vedere che non arrivasse al patinico 100 Dal momento che poi sarebbe morto Proseguiamo con la numero 9 La numero 9 Questa non so se vi è capitato magari Se siete stati in Giappone Avete visto magari qualche film Che spesso negli edifici, negli hotel eccetera In Giappone Manca il piano 4 E questo perché Perché il numero 4 In Giappone si pronuncia Si è la stessa pronuncia Di morte in Giappone Quindi nessuno vuole avere sfighe Infatti il numero 4 È un numero abbastanza sfigato Non fate mai nessuna cosa importante Alle ore 4 e 44 minuti Perché è un numero particolarmente sfigato Tra l'altro questa cosa è risaputa E anche in Cina Ci sono molti edifici In cui manca il 4 Quindi diciamo che il 4 è un numero sfortunato Come da noi è per dire il 17 Anche il 17 non so se voi sapete Ma vuol dire morte Perché se voi lo scombinate Le lettere del numero latino X, V, I, I E scrivete Bixi Vuol dire morte Quindi ha un significato abbastanza analogo Comunque per quanto riguarda il numero 4 Molte aziende non vogliono avere il loro ufficio al quarto piano Perché hanno paura di andare in bancarotta E molte persone sono molto superstiziose Non vogliono affittare un appartamento Che sia il numero 4 O anche magari la stanza 104 Per dire può mancare in alcuni posti Andiamo avanti con la numero 8 Allora la numero 8 Questa non so se vi è mai capitato di vedere Che spesso accanto a molti ristoranti C'è del sale Questo perché il sale si dice che scaccia i demoni Quindi è per non far entrare i demoni in questo ristorante Tra l'altro se pensano che siete dei demoni Ve lo possono anche lanciare addosso E no dire non mi è mai successo Però ma non c'è anche da noi Che si dice che buttare il sale dietro la schiena Porti bene o fare i cerchi di sale Non lo so se è una cosa che ho sentito O se l'ho vista magari in streghe Che era un vecchissimo telefilm Che non so se conoscete Vabbè in ogni caso il sale scaccia i demoni Un po' come l'aglio scaccia i vampiri risaputo Andiamo avanti con la numero 6 La numero 6 Questa anche porta molta sfortuna per i giapponesi Che è quando ti si rompe un sandalo Se ti si rompe un sandalo Un po' come da noi Quando ti si rompe uno specchio Ti porterà della sfortuna Non solo il sandalo Ma anche i pettini Anche i pettini per i capelli Quelli fini Se magari perdete un dente E vi si sta con dente Vuol dire che vi porterà molta sfortuna Quindi state molto attenti A non perdere un dente del pettine Andiamo avanti con la numero 6 Questa davvero Tutti i giapponesi ci credono O almeno tutti i miei amici giapponesi Ci credono Questa è veramente importante Che è tagliarsi le unghie di notte Tagliarsi le unghie di notte Porta sfortuna Perché si dice che Non vedrai la morte Dei tuoi genitori Quindi non potrai salutare I tuoi genitori O comunque potresti finire per morire Prima dei tuoi genitori Quindi diciamo che è una cosa molto triste E molti giapponesi ci credono Questa davvero in particolare L'ho sentita da subito Appena arrivato in Giappone Che è una cosa un po' strana Cioè per me Perché io di solito Mi faccio sempre le unghie la sera Quindi Non lo so Speriamo che non sia Una superstizione concreta Cioè una superstizione Che si trasformi in realtà Perché sarebbe bruttissimo Andiamo avanti con la numero 5 In quinta posizione Qua siamo saliti nella top 5 Questa è abbastanza divertente Anche questa mi è capitata Che mi è stata detta Rischiare magari mentre cammini di notte Si dice che attiri i mostri Questa me l'ha detta anche Sasori Tra l'altro Oppure si dice anche Che ti entrerà un serpente in casa Si dice che questa credenza Si è nata perché Spesso quando c'erano i ladri In Giappone Già nei tempi antichi Uno rimaneva fuori Faceva da palo E fischiettava Quindi se fischiettavi Voleva dire che andava tutto bene E allora l'altro Poteva Poteva derubare la casa Quindi se tu magari sei per strada Fischiettare Si dice che insomma È un po' come quella del gatto nero Che una volta le biciclette Non avvano la lampada Allora se ti attraversava Un gatto nero la strada Cadevi Potevi farti male Quindi sono un po' Quelle superstizioni Un po' così Davvero Io chi dice che i gattini Li portano male No È troppo ingiusto Mi sta troppo triste Andiamo avanti con la numero 4 Questa è divertentissima Perché si dice che Se bevi l'aceto Si diventa più Flessibili Ma dove le vanno a trovare Queste cose Forse è vero Perché in Giappone Non è raro Vedere magari dei drink A base di aceto Proprio Si dice anche che aiutano Per la dieta Quindi non so se la superstizione Abbia anche Una certa base Di scienza Però Di fatto Molti sportivi Giapponesi Bevono aceto O comunque queste bevande Acetose Non lo so Qualcuno di voi Beve l'aceto Se qualcuno di voi Beve l'aceto Che me lo può gentilmente Spiegare qui nei commenti Lo ringrazio di cuore E per favore Ditemelo Anche se c'è qualche scienziato Che può darmi Che può darmi una risposta Scientifica Andiamo avanti Con la numero 3 Questa vabbè In realtà ve l'ho già detta Se seguite il canale Già dovreste saperla Che è La bambola del tero teruboso Ve la ricordate Che se volete il video Con anche tutta la spiegone Eccetera Andate qui Che potete vedere Tutta la spiegazione Di Che come è nata Questa bambola E tutte le leggende Che ci sono dietro Ve lo consiglio Un video bellino Che avevo fatto Appena avevo iniziato il canale Mannazza Devo ancora fare il video Dove faccio la bambola del tero teruboso La voglio fare Dai magari Se vi interessa Che faccio la bambola del tero teruboso Scrivetemelo qua E un giorno mi trovo Con un mio amico giappone Se la faccio Comunque Per chi non sapesse Che cos'è il tero teruboso Anche se sicuramente In qualche anni Me l'avete vista È questa specie di bambola Che sembra un fantasmino Con la testa tonda Che si appende Praticamente Davanti alle finestre Per far si Che smetta di piovere O per evitare Che piova Il giorno dopo Spesso magari La usano Magari dei bambini Il giorno prima Che magari vanno Che ne so Al parco dei divertimenti O il giorno prima Della giornata dello sport Per evitare Che faccia brutto tempo Si dice che tra l'altro Se lo appendi a testa in giù O se lo fai nero Forti invece pioggia Non so Questo ho trovato Delle cose così Nel dark del web E in ogni caso Questa è una tradizione Che si fa anche a scuola Anche le maestre Insegnano i bambini Magari dell'asilo O dell'elementare A fare questo tero teruboso Tutti assieme È troppo carina Quella bambola Arriviamo al secondo posto Questa è una cosa Che dico spesso anch'io Perché io ho sempre Le mani freddissime Però avere le mani Freddissime In Giappone Vuol dire che hai Il cuore caldo E viceversa Se hai il cuore freddo Se hai una persona Meschina e malvagia Avrai le mani molto calde Parafrasando Vuol dire che Se hai una pessima Circolazione Sanguigna Sicuramente Sarei una buona persona Scrivetemi qui nei commenti Chi di voi È una buona persona E chi di voi Invece ha le mani calde Vabbè Concludiamo in bellezza Con la numero 1 Questa è veramente strana Però vi assicuro Che è vera In Giappone si dice Che se rimuovi Il seme di sesamo Dal tuo ombelico Avrai mal di pancia Cioè Non chiedetemi No Non fatemi cadere le luci Non chiedetemi Perché i giapponesi Credono che Si abbia nell'ombelico Un seme Però Alcune domande Non hanno una risposta certa Vabbè ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ditemi Quali di queste Dieci superstizioni Vi è stupito di più E quale conoscevate Ditemi se volete Che faccio altri video Così adesso Con la ring light Luce Di cultura giapponese Che li farò E noi ci vediamo Al prossimo video Un abbraccione da Seba E mi raccomando Iscrivetevi anche Al mio altro canale Che è il canale Di Seba Katsu Che è quello dove Parlo Magari faccio recensioni Di film un po' Trash giapponese O youtuber Altrettanto trash In giappone E poi quello di musica In cui canto Perché per chi non lo sapesse Io adoro cantare E mi piace molto Fare le canzoni E ragazzi volevo anche dirvi Prima che mi dimentico Che il mio amico Yari Che mi edita tanti Dei miei video È un angelo Ha fatto finalmente Il suo canale Dopo mesi che glielo dico Io ho un canale di gaming Lui che è molto più bravo A usare i gaming Io guardate C'ho un sacco di game Ma non ho ancora capito Come si registrano i video Magari me lo spiega lui Quindi se vi potesse interessare Andatevi a iscrivervi al suo canale E ve lo suggerisco io Un abbraccione E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Vi ricordiamo che potete trovare La musica di Sebastiano Serafini Nei maggiori digital store E noi ci vediamo